Eccoci a bordo della grande Pirelli, la barca più bella della flotta, questa è una bellissima alba e noi siamo molto forti in questo momento, ieri le condizioni erano molto più dure, oggi si naviga bene finalmente, sono in serena. Mi dispiace veramente tanto per Amélie e Aureliana che hanno disalberato, è terribile avere questo sport, può essere crudele, e io nello stesso punto ho avuto un'avaria importante, ma niente di che avessero in compromessa la sicurezza della barca, ho rotto i due sensori che mi danno indicazioni sul vento, quindi navigo un po' a naso, ma adesso funziona. Non so se per dieci giorni mi hanno dato il rama, ma per adesso... Evviva! Alla prossima!